Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. E' proprio l'Assemblea Legislativa ha discusso priorità del post-sisma e linee della ricostruzione nelle aree colpite, approvando due risoluzioni. Il servizio è di Marco Paganini e ci sono anche i commenti dei capigruppo consigliari. Vediamo. Gli effetti del sisma del 30 ottobre e le linee da seguire per la ricostruzione sono stati al centro dell'ultima seduta di Palazzo Cesaroni, durante la quale la Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, ha illustrato ai consiglieri regionali la situazione attuale della Valnerina, ipotizzando i principi caldine della ricostruzione post-emergenza. Dobbiamo proseguire insieme al sistema di protezione civile nazionale, i sindaci e i comuni, l'attività di assistenza alla popolazione, che significa la realizzazione delle aree container e poi una volta terminate anche le rilevazioni dei danni per tutte le case inagibili e per le persone dei comuni più coinvolti, quindi Norcia, Cascia, Pregi, la realizzazione anche dei cosiddetti sistemi abitativi di emergenza, che sono delle vere e proprie case sostitutive in attesa della ricostruzione e del rientro nelle proprie abitazioni. Parallelamente, la proiezione dei decreti da parte del Governo, la certezza delle risorse finanziarie, le prime ordinanze da parte del Commissario ci permettono di entrare nella fase della ricostruzione. In priorità ci sono le imprese e le attività economiche, perché vogliamo che non si interrompa la vita economica produttiva, che è il presupposto anche del mantenimento della vita della popolazione e subito dopo, parallelamente, anche gli interventi sulle case. Crediamo nella vita della Valnerina, nella sua ripartenza, e quindi il lavoro della Giunta regionale con il Governo e con il Commissario va in questa direzione. Le scosse del 30 ottobre hanno nuovamente colpito i territori interessati dal terremoto del 24 agosto, provocando gravi danni a Norcia, Pregi e Cascia, danneggiando in alcuni casi il 70% degli edifici. Oltre 5.000 le persone sfollate, quasi 4.000 sono in carico al sistema della protezione civile, 1.500 in alberghi e strutture ricettive, 2.000 invece in strutture dei comuni e 400 nelle tende. Si è verificato oggi in Aula un dibattito importante e con una piena assunzione di responsabilità da parte del Consiglio sulla relazione molto impegnata della Presidente Marini che ha descritto il lavoro fin qui svolto di sostegno alle popolazioni e di ripresa delle attività in Valnerina. Questo dibattito si è concluso con l'approvazione di due documenti, uno di carattere generale che prevede i processi di ricostruzione e un altro di carattere più particolare che candida all'Umbria come luogo di ricerca e di approfondimento per le tecniche e le procedure giuste per la ricostruzione di sostegno all'attività dell'Università, di ricerca e di innovazione. Credo che l'approvazione è molto larga da parte del Consiglio regionale di una risoluzione condivisa e fa emergere una valutazione che noi come gruppo abbiamo fatto, che è quella di una risposta da parte delle istituzioni, di tutti i soggetti che hanno lavorato in questi giorni, in queste settimane di emergenza in maniera molto positiva, questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. È importante soprattutto che si siano tenute insieme i tre livelli di intervento, la parte legata alla residenza, la parte legata alla restituzione della capacità scolastica per tutti i ragazzi e il sostegno allo sviluppo economico del territorio. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro, penso, attraverso una risoluzione unanime che si aggiunge a quella precedente del Consiglio regionale. Abbiamo stabilito le priorità, secondo noi occorre accelerare al massimo le procedure di messa in sicurezza del patrimonio edilizio rimasto appunto abbastanza in colume e poi quello culturale. In più bisogna accelerare le procedure per fare in modo che arrivino il prima possibile le famose casette e poi ripartire con le infrastrutture. Da prossima settimana riaprirà la strada. Ecco, sono tutti segni di una lenta ma progressiva ripresa che speriamo vada avanti più veloce che mai. L'informativa della Presidente ha riguardato tra l'altro i danni riportati dal sistema viario, le lesioni subite dagli edifici scolastici, gli interventi di messa in sicurezza delle abitazioni, le misure di sostegno per le famiglie con case lesionate in modo lieve e le risorse messe a disposizione dal Governo nazionale per affrontare le prime fasi dell'emergenza e gli interventi sugli edifici pubblici, in particolare sulle scuole della Regione per la cui sicurezza saranno stanziati 7 milioni di euro. Oggi abbiamo parlato del terremoto, ovviamente qui siamo tutti uniti nel fatto stesso che la politica deve fare un passo in avanti in aiuto delle tantissime persone che sono state colpite da questo sisma. Oggi però la cosa allarmante che ho scoperto è che pare che la Giunta regionale abbia sospeso l'assegnazione delle case popolari del bando del 2014 e sospeso il bando del 2016 per assegnarlo agli sfollati. Vogliamo sì che gli sfollati abbiano una sistemazione dignitosa ma non possono essere tolte a chi è in difficoltà, a chi ha diritto ad una casa popolare che oggi con questa delibera se l'è vista sottratta. Risoluzione unitaria dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ponendo all'attenzione la necessità di realizzare in tempi brevi le soluzioni abitative di emergenza nelle zone del sisma soprattutto grande attenzione affinché siano determinate tutte le risorse necessarie per il centro Italia nei prossimi 5 anni per la ricostruzione post-sisma che abbiamo valutato in almeno 15 miliardi di euro complessivi e ultimo elemento la semplificazione cercare di semplificare, essere veloci attraverso la autocertificazione e procedure che consentano anche l'utilizzo di perizie giurate a cura dei tecnici abilitati. Il dibattito che ha fatto seguito all'informativa della Presidente Marini ha visto intervenire tutti i gruppi consigliari portando al termine dei lavori all'approvazione quasi unanime di due risoluzioni La prima, non condivisa da Lega e Movimento 5 Stelle fa riferimento ad un nuovo approccio alla filiera delle costruzioni mentre la seconda recepisce a prova le linee tracciate dalla Presidente Marini ed ha fatto registrare la sola astensione del Movimento 5 Stelle Valutazioni politiche negative invece un plauso a tutta la macchina dei volontari delle misericordie, delle proloque, dell'associazione che hanno espresso in modo positivo le grandi forze e le energie dei Umbri grande ringraziamento alla solidarietà di tutti i cittadini Umbri io ne sono stato testimone ho raccolto molto dalla parte del mio territorio d'Alto Tevere che diciamo dona e dà lustro alla nostra comunità dal punto di vista politico trasferendo questa responsabilità a Roma delusione per il super commissario Errani che sembrava che secondo Renzi si solvesse tutti i problemi in realtà siamo ancora alle promesse e non si vede una lira i vice commissari che poi sarebbero i vice presidenti i presidenti di regione diciamo fanno questa continua spoletta ma ancora di soldi veri sul tavolo non ci sono e dall'Europa ancora peggio è inutile che Renzi protesti dall'Europa ancora non si vede una lira il Movimento 5 Stelle ha criticato l'organizzazione dell'emergenza nonché il fatto che occorrano ben sette mesi per posizionare le casette della Consip noi riteniamo che ci siano state delle carenze forti nell'organizzazione e questo è stato rilevato anche da numerose associazioni io credo che la protezione civile regionale doveva essere affiancata sin da subito da quella nazionale con contro numero di volontari questo non è accaduto per quanto riguarda poi il fatto di non riuscire a dare un tetto in tempi rapidi questo si commenta da solo e la situazione si evidenzia come grave non soltanto ovviamente per i residenti ma anche per tutte le attività agricole, zootecniche e più latamente commerciali e artigianali per questo occorrerebbero le locazioni dirette peraltro per tutti coloro che hanno perso un'entrata e noi ci lavoreremo L'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera al disegno di legge per le politiche di genere previste maggiori tutele per le donne nel lavoro nella salute e nel contrasto alla violenza vediamo L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza con 14 voti a favore Partito Democratico, Socialisti Riformisti e Fratelli d'Italia e 7 astenuti Forza Italia, Ricci Presidente, Lega Nord e Movimento 5 Stelle il disegno di legge della Giunta regionale norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra uomini e donne per la maggioranza si tratta di una legge che vuol far fare culturalmente e con azioni di governo passi avanti verso la rimozione di ostacoli che impediscono una piena parità fra donne e uomini oltre che sostenere i centri antiviolenza per la gran parte dell'opposizione di diverso avviso solo il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marco Squarta che ha votato a favore una legge manifesto che non incide sui reali problemi delle donne e non è stata sufficientemente condivisa dall'universo femminile quanto piuttosto dalle associazioni femministe si tratta di una legge quadro che va a intersecarsi con le leggi di settore e le politiche di servizio che la regione mette in campo in diversi ambiti dalla salute al lavoro in più questo disegno di legge contiene delle parti riguardanti il contrasto alla violenza sulle donne come la rete dei servizi antiviolenza di cui fanno parte i comuni, le aziende ospedaliere le ausl, il centro pari opportunità e i centri antiviolenza nello specifico l'atto è sostenuto da una norma finanziaria che prevede già per il 2016 200.000 euro 100.000 per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 50.000 per la promozione della cultura della differenza nelle scuole e la formazione del personale 40.000 per le azioni della regione riguardo la diffusione delle buone pratiche per nuovi stili di vita la promozione di esperienze di vita solidali e sostenibili 10.000 euro infine per interventi di comunicazione e informazione approvata dall'aula l'istituzione dell'osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità la proposta era stata avanzata dalla commissione consigliare antimafia ce ne parla Tiziano Bertini l'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con l'astenzione del movimento 5 stelle il testo della proposta di legge che consentirà l'istituzione dell'osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità l'atto è stato firmato da tutti i componenti della commissione d'inchiesta analisi e studi su criminalità organizzata infiltrazioni mafiose, tossicodipendenze, sicurezza e qualità della vita è approvato dalla prima commissione la proposta integra la legge regionale 16 del 2012 riguardante misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nell'atto istitutivo dell'osservatorio come ha spiegato il presidente della commissione antimafia Giacomo Leonelli vengono definiti obiettivi, attività, componenti e modalità di lavoro dell'osservatorio stesso tra i compiti di questo strumento vi è in primo luogo quello di studiare i fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso attraverso la raccolta di dati e informazioni relativi al progredire della presenza delle organizzazioni mafiose in Umbria Leonelli ha tenuto anche a precisare che sarà riattivato quanto prima il sito internet che contiene l'attività sin cui svolta e sarà anche definita la struttura di supporto al lavoro dell'osservatorio stesso con l'obiettivo che si è reso operativo già dai primi mesi del prossimo anno Illustrato dall'assessore Bartolini in prima commissione è il documento di economia e finanza regionale 2017-2019 una parte specifica dedicata al terremoto in servizio Nella seduta della prima commissione presieduta da Andrea Smacchi l'assessore Antonio Bartolini ha illustrato il documento di economia e finanza regionale 2017-2019 Il documento, presentato per la prima volta entro la fine dell'anno dedica una parte specifica al terremoto oltre alle cinque aree di intervento istituzionale, economica, culturale e territoriale sanità e sociale Tra gli elementi fondamentali del documento in un contesto di ulteriore taglio dei trasferimenti statali l'invarianza del prelievo fiscale l'attuazione della programmazione europea 2014-2020 la strategia macro-regionale la razionalizzazione della spesa il principio della responsabilità dirigenziale Nel paragrafo specifico dedicato al terremoto vengono delineati gli obiettivi strategici della ricostruzione in termini politici ed economici Il DEFRE, ha spiegato Bartolini prosegue nella scelta di non aumentare il prelievo fiscale malgrado la progressiva riduzione di risorse statali derivanti dai provvedimenti nazionali di taglio della spesa e di pareggio di bilancio Elemento importante del documento è la decisione di portare avanti anche la strategia macro-regionale attraverso il protocollo firmato con Toscana e Marche per la costituzione della sede unica a Bruxelles Nella parte del documento dedicata alla sanità è prevista l'attuazione della centrale acquisti macro-regionale Il comitato di monitoraggio e vigilanza sull'amministrazione regionale ha ascoltato il presidente dell'AT regionale Alessandro Almadori sulla situazione dell'azienda Il servizio è di Marco Paganini Il comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale presieduto da Raffaele Nevi ha ascoltato Alessandro Almadori presidente dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale per un report sulla situazione dell'edilizia pubblica in Umbria Al centro dell'audizione importi degli affitti e parametri per la loro definizione bilancio e introiti dell'azienda livelli di morosità e sfratti effetti del sisma sull'attività dell'azienda Rispondendo a domande e sollecitazioni dei consiglieri regionali presenti il presidente Almadori ha evidenziato che il bilancio di ATER è in equilibrio ed ammonta 19 milioni di euro Circa 2,5 milioni vengono impiegati ogni anno per le ristrutturazioni degli 11.000 immobili gestiti suddivisi tra 8.000 alloggi a canone sociale 1.000 a canone concordato e 2.000 allocati a canoni di mercato Sarebbero necessari maggiori fondi, è stato detto nazionali e regionali per fare fronte alle esigenze di manutenzione e per ampliare l'offerta di abitazioni Già prima del terremoto, ha spiegato Almadori era stato avviato in collaborazione con l'Università di Perugia un programma di verifica sismica degli alloggi dell'azienda nessun edificio ATER è crollato con il sisma del 24 agosto alcuni sono stati danneggiati ma solo in maniera lieve grazie alla ricostruzione seguita al terremoto del 1997 ma dopo il 30 ottobre la situazione è cambiata e molto peggiorata E per questa edizione è tutto vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana